Ciao tifosi del Cagliari, qui è il vostro giornalista sportivo esperto di notizie sulla squadra, io ho una notizia esclusiva per voi, anche se c'è una pausa internazionale, il Cagliari non sta fermo, no signori, ci stiamo preparando per quella che promette di essere la partita del campionato contro il Verona, ma prima di tutto, abbiamo un'amichevole fissata per domani contro il Selarcius, e guardate un po', il nostro allenatore, Ranieri, sta testando alcune soluzioni tattiche nuove, è che abbiamo diverse assenze ad assemini, quindi è il momento di pensare fuori dagli schemi, secondo quanto riportato dall'Unione Sarda, si sta aprendo una grande opportunità per un giovane talento, Kingston e Mutwanda, Mutwanda è un attaccante nato nel 2003, e guiderà l'attacco rosso-blu nell'amichevole di domani, è un'opportunità incredibile per lui mostrare tutto il suo potenziale e farsi notare nella prima squadra, ora, so che tutti voi siete curiosi di vedere come questo giovane si comporterà in campo, riuscirà a mostrare tutto il suo talento, ci stupirà con qualche gol, siamo ansiosi di scoprirlo, ma mentre aspettiamo la partita di domani, continuiamo a sostenere la nostra squadra, inviando buone energie a Mutwanda e a tutti i nostri giocatori, e non dimenticatevi di rimanere sintonizzati per ulteriori aggiornamenti sul Cagliari qui sul nostro canale, e voi, tifosi, cosa ne pensate di questa opportunità per Mutwanda, credete che brillerà nell'amichevole di domani? Fateci sapere le vostre opinioni nei commenti!